continua continua l'apoteosi di rosario crocetta che quando va all'arse quando si fa ascoltare e quando non ascolta gli altri riesce sempre a stupire tutto il pubblico all'arse e anche quello siciliano tutti ce l'hanno con crocetta confindustria ce l'ha con crocetta la mafia ce l'ha con crocetta l'antimafia piano piano ce l'ha con crocetta i credini ce l'hanno con crocetta forse d'aglia ce l'ha con crocetta e il pd ce l'ha con crocetta tutti ce l'hanno con crocetta sarebbe molto semplice se anche noi ci prestassimo al gioco che stanno facendo tutti quanti ma chi è rosario crocetta da dove nasce ma soprattutto cosa vuole rosario crocetta dalla regione siciliana perché rosario crocetta fu nominato fondamentalmente dall'udc del di salvatore guffaro e quella ed dal pd di lumia e compagni per fare il presidente della regione nel luglio del 2012 luglio agosto giù di lì quando raffaele lombardo stava per dimettersi ha annunciato le dimissioni dal governatore della sicilia per i suoi guai con la giustizia quindi il partito dell'ex presidente faro che adesso è in carcere nomina il nuovo paladino della giustizia rosario crocetta insieme al partito democratico per subentrare a quello che è un altro presidente che ha problemi con la giustizia e che adesso sta raccogliendo i cocci di un processo che sembra andare verso la condanna visto che già è stato condannato in primo grado tutti ce l'hanno con crocetta perché ce l'hanno con crocetta perché sta distruggendo i poteri forti perché stanno intaccare tutti gli interessi che gli altri avevano utilizzato per anni 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 no 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 tutti ce l'hanno con crocetta perché è isterico e come tutti personaggi isterici non è controllabile questo non dovrebbe essere un merito non è un merito del presidente della regione ma semplicemente è il fatto che nessuno lo può controllare non lo controlla neanche il suo partito nessuno viene accontentato o crocetta accontenta soltanto i suoi fedelissimi con questa concezione di staff che ha tornato a sé ma che negli ultimi due anni ha cambiato più e più volte ha nominato qualcosa come l'equivalente di due giunte regionali c'è un ogni anno in sicilia cambia la giunta regionale totalmente senza parlare dei capi di gabinetto che si sono sono stati rimossi sono stati cambiati in base ad altri tipi di equilibri i dirigenti non vogliono fare più dirigenti con crocetta molti dei quali sono impreparati e la rivoluzione è solo iniziata anche se Grazie a tutti.